Viktor Miedvedchuk, fotografato in manette con l'uniforme dell'esercito ucraino, forse per sfuggire alla cattura. Ma chi è il potente oligarcho ucraino ma vicino a Putin, arrestato dalle forze di Chieve e proposto per lo scambio di prigionieri con la Russia? Miedvedchuk è una delle personalità ucraine più vicine a Vladimir Putin, che è stato persino il padrino di battesimo di una delle figlie di Miedvedchuk. Miedvedchuk, 67 anni, avvocato e uomo d'affari, ha accumulato una fortuna di più di 620 milioni di dollari, il dodicesimo uomo più ricco dell'Ucraina. E' anche il leader di un partito politico filorusso, piattaforma di opposizione per la vita, con 43 deputati, messo al bando però il 10 marzo scorso da Zelensky, insieme ad altri 10 movimenti di opposizione considerati vicini a Putin. Da tempo nella blacklist di Zelensky, Miedvedchuk, già nel maggio del 2021, era stato posto agli arresti domiciliari. Dopo essere stato accusato di alto tradimento e tentato saccheggio delle risorse naturali della Crimea, Miedvedchuk è fuggito dagli arresti domiciliari quattro giorni dopo l'inizio dell'invasione russa. A Kiev sperano di ottenere molte informazioni da lui sulle intenzioni di Putin, ma quello di Miedvedchuk non sembra esattamente il profilo di un possibile pentito.